ciao a tutti oggi prepareremo il gelato alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di sei ore circa gli ingredienti sono panna fresca per dolci messa per 45 minuti in congelatore nutella latte condensato diamo il via alla ricetta abbiamo fatto uno strato sottile di nutella su un foglio di carta da forno adesso la metteremo in congelatore per un'ora trascorso un'ora prepariamo il gelato mettere posizionare nel boccale la farfalla versare la panna e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5 la panna è ben montata a trasferire in una ciotola capiente senza lavare il boccale e senza farfalla mettere nel boccale la nutella ed il latte condensato ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3 versare nella ciotola con la panna ed amalgamare bene mettere momentaneamente da parte abbiamo ripreso la nutella dal congelatore adesso degli remo delle strisce orizzontali e verticali componiamo il gelato mettere in un bicchiere due cucchiai e dei pezzetti di nutella congelata altro composto di nutella e altri strati di nutella e ripetere l'operazione fino arrivare a un centimetro dal bordo riporre in congelatore per quattro ore abbiamo ripreso il gelato dal congelatore adesso mettere un sottile strato di nutella sulla superficie e livellare bene riporre il gelato dal congelatore per almeno un'ora riporre il gelato in congelatore per almeno un'ora gelato alla nutella grazie e alla prossima ricetta riporre il gelato in congelatore riporre il gelato in congelatore per almeno un'ora riporre il gelato a cal ra Grazie a tutti. Grazie a tutti.